Gentili telespettatori, buona giornata. Abbiamo visto addirittura che fanno dei viaggi organizzati da qualche banda per venire in Italia e chiedere al Redo di Cittadinanza e poi tornare. E poi tornare indietro. Fantastico. Giorgia Meloni parlava di un paese delle banane, una repubblica delle banane. Voi conoscete un altro paese al mondo dove organizzano i viaggi con i pullman per andare a chiedere un reddito di cittadinanza? Vediamo qual è il trucco per intascarsi il famoso reddito grillino. Ecco come riuscivano e riescono a ingannare le istituzioni. Continuano quelli che chiamano i furbetti, furbetti, truffatori, che riescono a percepire il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Gli ultimi 30 scoperti tutti dall'estero arrivavano, scovati grazie a un'ampia attività investigativa, tuttora in corso. Segnalati all'Inps, sospensione dell'erogazione del reddito. Ci sarebbero però altri soggetti che potrebbero raggiungersi all'elenco, in quanto già finite sotto la lente di ingrandimento. Qual è il modus operandi di queste persone? Era sempre lo stesso. I richiedenti attestano falsamente la propria residenza in Italia da almeno dieci anni e l'assenza di pendenze penali. Gli stessi inoltre si presentavano presso un ufficio postale della provincia di Alessandria, non coincidente con il domicilio, così da ottenere il sussidio nel periodo che intercorre dalla presentazione della domanda agli accertamenti Inps sulla legittimità e sull'effettiva presenza dei requisiti. Avete capito come? In questo modo numerosi cittadini extracomunitari, prevalentemente romeni, nigeriani e marocchini, spesso senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, alcuni di quali anche ricercati erano riusciti ad ottenere il reddito di cittadinanza. Un piano semplicissimo nell'esecuzione. Ultimi in ordine di tempo ad essere individuati, due giovani romeni di 23 e 28 anni domiciliati presso un campo nomadi di Genova, trovati in possesso di tre carte ottenute del reddito di cittadinanza, attestando falsamente la prolungata residenza anagrafica sul territorio nazionale. Quindi si può dichiarare il falso, dici io sono residente qua da dieci anni, ma in questi casi, scusate, ma l'autocertificazione non va bene. Tu devi dimostrare la residenza con un documento del comune, dei vigili urbani. Ma scusa, per andare a chiedere un sussidio statale di questa portata ti credono sulla parola? Ma veramente aveva ragione Giorgio Amiloni, paese delle banane, senza offendere le banane. E così questi ultimi due trovati, attestando falsamente la prolungata residenza anagrafica sul territorio nazionale, con cui ottenevano circa 3.000 euro di sussidio, il 23enne è stato scoperto dai carabinieri per aver ottenuto il beneficio nonostante si trovasse sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Poi si è reso irreperibile. La scoperta dei nuovi furbetti di sicuro non farà che alimentare lo scontro politico. Bandierone dei 5 Stelle su cui confidano di ottenere i voti in tutte le prossime elezioni. Proprio ieri mattina, in un'intervista al Corriere della Sera, Giuseppe Conte, leader per caso dei 5 Stelle, ha ribadito che l'Italia sul reddito di cittadinanza non può tornare indietro. Secondo l'ex due volte premier che l'ha messo nel curriculum, l'iniziativa del centrodestra spalleggiata da Italia Viva non potrà avere successo, perché il reddito di cittadinanza è un fatto di necessità oltre che di civiltà. Siamo stati gli ultimi in Europa ad avere introdotto questa misura che garantisce coesione e sicurezza sociale, cosa che non è possibile se milioni di persone vivono al di sotto della soglia di povertà. ma è solo lui convinto di questo. Il fatto è che chi arriverà al governo dopo le elezioni del 2023 o forse anticipate, cancellerà questo reddito di cittadinanza e ne farà probabilmente un qualcosa di diverso, indirizzato come sta proponendo Giorgia Meloni, come sta proponendo anche Matteo Salvini dopo che Giorgia Meloni ha fatto la proposta, guarda caso, quello che propone Giorgia Meloni è dire noi diamo i soldi a chi veramente ne ha bisogno, chi veramente ne ha bisogno, con un modo di verifica tutto diverso e a chi gli diamo questi soldi si deve presentare tutti i giorni in comune dalle 8 fino alle 5 del pomeriggio o dalle 9 fino alle 5, fa le sue 8 ore al servizio del comune e non c'è nulla che può dire no, non può, è irreperibile, non risponde al telefono. Tu prendi 550 euro e allora vai a lavorare in comune, pulisci le aiuole, pulisci le spiagge, pianti gli alberi, vai in giro a vedere dove sono i cinghiali, tutte queste robe qua. Così dici bene, tu vuoi fare il lavoro in nero e l'ha fatto il lavoro in nero. Vuoi prendere il reddito di cittadinanza? Io ti impedisco anche di prendere il lavoro nero perché tu sei comunque costretto a stare in comune dalle 9 alle 5 del pomeriggio. Questo è quello che doveva essere anche il reddito di cittadinanza, solo che i comuni non hanno i soldi per pagare delle persone che coordinano questi del reddito di cittadinanza per fare lavori utili. Quindi questa gente non ha mai fatto lavori utili in comune per il fatto semplice che non ci sono le persone che le possono coordinare. E così cosa succede? Queste persone o fanno il lavoro nero, stanno sul divano a prendere la disoccupazione o chiamiamolo il reddito di cittadinanza. Questa è la realtà. Quindi reintrodurre anche un sistema in questo modo. Tu prendi questa sorta di reddito, di disoccupazione, ma io ti obbligo a stare in comune, a fare dei lavori utili. Non questa volta per finta, ma davvero. Così non puoi stare sul divano o andare a fare lavori in nero. Diventi un lavoratore del comune. Però c'è anche un altro però. L'Italia non è paese che si può permettere questa spesa. Non ce li ha, è tutto a debito. Prima o poi l'Italia farà un bel crack, fallimento e non paga più nessuno, né pensioni, né militari, né medici. Tutti i lavori pubblici finiti. Quando un paese fallisce è un bel disastro. E noi siamo su quella bella strada lì, bella tra virgolette. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Grazie a tutti.